Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite... Allora, Mimmo Cascio, cantautore, che ci presenta la prima domanda più spontanea è quella Se dovessi descrivere a chi ci ascolta e non ti conosce, chi è Mimmo Cascio? Io sono un cantautore trevigiano di origine siciliana, sono mai vent'anni e più che vivo e lavoro a Treviso Io sono nato come cantautore all'età di 14-15 anni Ho cominciato a scrivere le prime canzoni a metà degli anni 80 Mi hanno dato lo stimolo i cantautori italiani Perché io prima, quando ero più piccolo, ascoltavo anche altro tipo di musica Alcuni dischi che mi portava a casa mio papà o anche mio fratello Però la miccia è stata accesa quando ho cominciato a scoprire questi cantautori italiani dell'epoca E mi riferisco a De Gregori, a Bennato, a De Andrè, Battisti, Celentano, questo genere qua Allora ho capito che si poteva fare musica in maniera diversa Non soltanto per forza si doveva parlare di storie d'amore o comunque storie che non incidevano tanto Si poteva anche scrivere delle canzoni parlando di cose più importanti e riferendosi anche ai problemi sociali Allora da lì mi è venuta la spinta di cominciare a suonare la chitarra e a scrivere canzoni E questo è stato il mio inizio Poi da lì ho cominciato a fare i primi concerti, a scrivere tante canzoni Però non avevo mai avuto l'occasione di inciderle Poi dopo tanti anni, quando già ero qua a Treviso, dopo aver suonato pure in diverse band, in un trio, eccetera Ho pensato di incidere tutte queste canzoni che avevo nel cassetto E allora ho inciso fino adesso tre album Il primo l'ho inciso nel 2015, si intitola Viaggerò Il secondo l'ho inciso nel 2020, Viaggia, Il Mello e altre storie E questo ultimo l'ho inciso adesso ad aprile del 2023 Che si intitola Più brutti che belli Veramente sarebbe un EP perché è formato da cinque brani Ed è un album a cui tengo moltissimo Perché innanzitutto va un attimo a concludere questa trilogia di album Perché il filo conduttore che le lega è sempre queste storie che racconto della provincia italiana degli anni 80 e 90 Io mi piace sempre dire quella provincia italiana molto più classica che moderna Quindi sono storie anche che ho vissuto direttamente con i miei amici Che alla fine non sono storie così chissà che Sono delle storie semplici che ho avuto, che ho vissuto insieme con i miei amici Però sai, anche le storie che sembrano semplici Una volta che uno le mette in musica In qualche modo penso che simitizzano le storie Una volta che c'è il contesto musicale E allora ho voluto concludere questa trilogia e fare questo tezzo EP Che continuasse a parlare di queste storie di provincia Appunto, parlando del nuovo album Che è un EP con cinque brani Ma in fondo perché bisogna essere proprio tanto brutti Ma un po' più belli In fondo siamo tutti belli Allora ti dico, il titolo si riferisce a una traccia dell'album Che si intitola appunto più brutti che belle E faccio riferimento a un racconto di tanti anni fa Quando insieme con un amico Quando abitavo ancora in Sicilia Siamo usciti per le strade del paesino con una chitarra Allora abbiamo visto, era una sera d'estate Abbiamo visto dei gruppi di ragazzi Che erano fermi, che giocavano davanti l'uscio di casa Allora ci siamo avvicinati con la chitarra E così abbiamo cominciato a suonare, a cantare Li abbiamo coinvolti Ed è stata una serata veramente esplosiva Una serata di festa Allora il messaggio che voglio dare io con questa canzone È proprio questo Nel senso, a volte Anche se non si è bellissime Arti con gli occhi azzurri, eccetera Quello che può fare leva è la simpatia A noi è bastato avere una chitarra Avere un po' di faccia tosta E cantare delle canzoni E diciamo che abbiamo conquistato quel pubblico provvisorio Che abbiamo avuto davanti Però abbiamo fatto leva sulla nostra simpatia E sulla nostra voglia di stare insieme Nella realizzazione dei testi In questo caso, di questo album Ma anche negli altri Nascono prima le parole Nasce prima la musica Oppure un beat, un riff Si dice riff Qualcosa che ti è venuto in mente Oppure accidentalmente Nascono insieme Guarda Pietro Quasi sempre Io scrivo prima la musica E poi i testi Raramente mi è capitato l'opposto E poi anche il fatto di scrivere canzoni Tanti me lo chiedono Per me non funziona Che mi metto a tavolino E decido Oggi devo scrivere una canzone E la scrivo Spesso e volentieri La musica ispiratrice Che mi viene a trovare Ad esempio ti faccio L'esempio di due brani Di questo ultimo ep E mi riferisco ad anni 80 E un altro brano che si chiama Vive Che sono nati Nella casualità più assoluta Ad esempio Anni 80 Mi è venuta in testa la melodia Di notte Mentre ero in dormiveglia E così Proprio per caso Allora Mi sono alzato Sono andato in cucina Con la chitarra Ho impresso subito la melodia Nel telefonino Per evitare di dimenticarmela Perché avevo capito Che poteva essere Una melodia accattivante Importante E la stessa cosa Su Peggiù è avvenuta Con l'altro brano Con Vivi Mentre mi trovavo A Padova Che stavo Passeggiando Con mia moglie Non so Come è successo Anche lì Tutti insieme Ho cominciato a fischiettare Una melodia E meno male Che avevo il telefonino Dietro E l'ho subito registrata E così Che sono nate Le due canzoni Almeno La parte musicale Delle due canzoni Sono nate così Con Con questo tipo Di casualità Noi abbiamo visto Il videoclip Ma in una stazione In fondo Quel treno Era in partenza O in arrivo I tuoi sogni Sono in partenza O in arrivo Penso che i miei sogni Devono essere Sempre in divenire Perché uno Come la vedo io Non bisogna mai Cullarsi di quello Che è riuscito ad avere Deve sempre cercare Di sognare Sempre un pochettino Più in grande Infatti la stazione È un posto simbolico Per la canzone Infatti la canzone Si intitola Viaggerò E voleva raccontare Proprio questo Che il viaggio Che facciamo Quello più importante Che facciamo Nella nostra vita Non è quello fisico Ma è quello Soprattutto interiore Quello che ci guarda La nostra fantasia E la nostra immaginazione Quindi penso che sia un viaggio Che parte Però non arriva mai Che è sempre Sempre il viaggio Nella realizzazione dei testi Previsci essere un po' Più longevo Il prolisso Nelle parole Oppure come nell'inglese O comunque nei testi Essere un po' più sintetico Cioè esprimere Sinteticamente Il concetto Oppure Ti ho detto appunto Utilizzare più tante parole Guarda Pietro Io Mi rifaccio un po' Alla musica americana Io amo tanto Anche se ho cominciato Con i cantautori Però Amo tanto Il cantautorato americano Allora Per quello che capisco io Il cantautorato americano La musica americana In generale Diciamo che Si caratterizza Per il fatto che I testi sono Molto Verbosi Molto lunghi Sono delle Piccole storie cinematografiche E a me piace Scrivere i testi Un po' In questo modo qua Scrivendo delle storie Che avessero pure Qualcosa di cinematografico Quindi Sono più Per i testi più lunghi Per le storie più raccontate Ecco Per i racconti Che per le cose proprio Sintetiche Anche se Capita anche a me Di scrivere qualche brano sintetico Però Federico I brani Tipo Racconti Tipo storie E Invece Suonare dal vivo È sensazione proprio Quando davanti c'è un pubblico Inizialmente Si dice Silenzioso Ma un silenzio Che parla a volte E poi dopo Lo vedi Partecipe Che ti ritrasmette Quell'energia Che tu A volte Poi suoni in un palco Dove sotto il buio Comunque vada A volte Senti solo l'energia Ma non Non vedi le persone Oppure a volte le vedi Però Quale sensazione Prova Guarda È tutto Un Un Trasmettere L'emozione E riceverle Da pubblico Cerco di dare Un po' di energia Un po' di emozione Quando ci riesco Per me è importante Quando il pubblico È attento E mi ascolta Perché Quell'emozione Che riesco a dare Quell'energia Un modo Il tempo Per poter Un attimo Spiegare Un attimo Parlare Raccontare Un attimo Della canzone Quindi Instaurare Una specie Di dialogo Con il pubblico E invece Quando poi Finisci di suonare E la gente Ti viene accanto Non solo Per farti complimenti Ma poi Nei loro occhi Tu vedi L'emozione E a volte Ti dicono In quella canzone Mi sono avuto La sensazione E ti raccontano Un po' di vita Di loro Che sensazioni Quale emozione Proprio a quel punto Guarda Guarda Quella È la È la cosa Più bella E la soddisfazione È più grande Quando ti viene qualcuno Con gli occhi Anche un po' lucidi Ti dice Guarda Quella canzone Che hai raccontato È come Che se raccontasse Un po' la mia storia Quella canzone Ad esempio Mi ha preso tanto Perché Mi ha commosso E sono quelle Diciamo Le soddisfazioni Più grandi Quando capisci Che comunque Hai toccato Il cuore di qualcuno O di qualcuna Com'è la copertina Dell'EPI Perché Noi stiamo parlando Tanto Ma Come nasce Quella copertina E come è stata Appunto Al Ottenere il risultato finale E poi di quella copertina Guarda Intanto Te la faccio vedere Vediamo Se Ce l'ho qua Eccola qua Allora La copertina È stata Un'intuizione Nel senso Che ho voluto Che Che io Direttamente A mano Con la mia Calligrafia Che è quella Che non è il massimo Mi piaceva Scriverla Direttamente Con la mia Calligrafia Ed è nata Questa copertina Così Non so se È bella Se non è bella Però È nata Questa copertina Che vuole essere Tipo una specie Vedi Dietro ci sono Anche Tipo un quaderno Dei quadrettini Come per dire Che Il mio album In qualche modo Vuole essere Tipo Degli appunti Di viaggio Tipo Un piccolo Diario Dove Appuntarsi Delle cose E a questo punto In un mondo Di viaggio Di musica Quale artista Oltre che Mi hai citato Diversi artisti In cui Ti sei ispirato Poi In questo tempo Ci sono altri artisti Oltre a quelli Soprattutto anche Della nuova generazione Che Ti piace ascoltare Ma soprattutto Che in mondo Puoi trarre Anche interesse Per Parcrescerti musicalmente Allora Per quanto riguarda Italia Sarò sincero Della nuova generazione Non c'è Granché Che mi piace Però Posso fare riferimento Alla nuova generazione Di Un tipo Di musica Un genere musicale Che a me piace tanto Che si chiama Il Fado Fado portoghese E sono molto Attirato Dalla musica E dalla voce Di due artisti Di Fado portoghese Anche Per loro Comunque Sono anche Giovani E ti parlo Di Anna Moura E di Marisa Tra l'altro Ho visto Poco tempo fa Il concerto Di Marisa Qui a Venezia Però Per quanto riguarda L'Italia A giorno d'oggi Devo essere sincero Non c'è un artista Giovane Che proprio Che mi prende Che mi piace Poi poco fa Ti facevo Riferimento Alla musica americana Ti posso Ti potrei citare Alcuni artisti Americani Che mi piacciono Tantissimo Come Dylan Come Springsteen Neil Young Tom Waits Diciamo I mostri sacri Del cantoterato Americano E poi anche Mi piaceva molto Anche La musica Degli anni 90 I rock Degli anni 90 Quindi Faccio riferimento A Liga Bue Oppure Elite Fiba E Negrita All'epoca C'era pure Alcuni cantatori Che poi Non hanno Avuto Grandissimo successo Non sono Siusciti Proprio A imporsi Però Mi ricordo Che c'era Marco Conidi C'era Brando Tutte artisti Che comunque Mi sono sempre Piaciute Cicando Marco Conidi L'abbiamo anche Noi conosciuto Intervistato E siamo Anche noi Ai messi Anch'io Sono Un Ho scaltato Anch'io Marco Conidi E ho comprato Tutti i dischi Di Marco Conidi E Progetti Progetti futuri Progetti futuri Adesso Sto cercando Di Avere dei contatti Per presentare Live Anche questo CD Quindi presto A presto pubblicherò Alcune date Su facebook Poi c'è Un brano Che non sono Siuscito A inserire Nell'album Nel senso Che non l'ho voluto Inserire Perché Aveva un Accengiamento Troppo diverso Rispetto agli altri Cinque Quindi Mi sembrava Che da questo Punto di vista Era un po' Fuori luogo Quindi L'ho Momentaneamente Messo da parte Però Conto Farlo uscire Pubblicarlo Come singolo Ecco E poi si vedrà Quello che Che succede Io Allora A questo punto Navigando Questo mare Tra belli E brutti A questo punto Noi ti ringraziamo Per essere Stati ospite Ci diamo Appuntamento Per Un prossimo Giorno Per poterti Riascoltare Così Per presentare Poi il quarto Album Il quinto album Molto più grande Con tanti Brani Ascoltarti Dal vivo A questo punto Ci mancano I saluti Finali E gli indirizzi Dove poterti Raggiungere Allora Intanto Io Ti ringrazio Te Pietro Per avermi ospitato E per avermi dato La possibilità Di parlare Del mio album Quindi Saluto anche Tutti gli ascoltatori A me Mi potete trovare O su Facebook O su Youtube Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata E che Mi potete E che E che E che E che E che E che Allora E che